Eccoci qua, adesso siamo sul clip 6, numero 6, allora dal giorno 19esimo al 21esimo e di conseguenza questo è un clip veramente ardua, alta intensità e meglio di, lo ho messo tutti insieme e lo dovete fare oggi due volte, domani tre volte e il giorno 21 lo dovete fare quattro volte, intensissimo, se riuscite a fare quattro volte ragazzi altro che dimagrire tutti, 28 giorni diventerete silfide, così 1, 2, 3, partite e ci vediamo al prossimo clip, baci! Allora cominciamo con quello che io chiamo un fondo rovescio con il salto, allora dovete pensare molto bene a portare la gabbia dietro, la coscia e guardate bene che il genocchio rimane allineato con il talone e l'altra cosa è che devi spingere sempre sul talone, non lasciare che lavorate troppo sulla punta perché poi lo sentirai troppo sulla coscia anteriore, ok? E l'altra cosa è che rimanete sempre appoggiato sulla gamba anteriore, ok? Non sollevarti troppo, dai molto molto attenzione sul talone e piano piano vedrai che questo è un eccellente riscaldamento che noi dobbiamo ripetere per un minuto e mezzo, ricorda sempre che il peso sta sul talone, il genocchio non slitta in avanti e lavoro piano piano come se stessi provando di spingere io lontano la terra, sto provando di allontanare la terra attraverso il mio talone e così io posso lavorare meglio sulla parte posteriore della coscia dove proprio lì sotto l'attaccatura del gluteo, esattamente quando voi state pensando di fare prove costume è quella zona che vuoi lavorare bene, rassodare le lati che mancano pochi, continui così, stai facendo un ottimo lavoro, sorridi sempre, cosa sai che io voglio che tu sorridi e adesso cambiamo il movimento, il nostro nuovo movimento è quello che io chiamo una partenza finita, lo faremo per venti secondi e devi spingere più velocemente che puoi, divaricando la dita per terra di conseguenza hai una bella diciamo posizionamento delle due braccia a terra, spingi 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 e poi andiamo a cambiare questo nuovo esercizio si chiama sumo squat, ok? e faccio una fondo centrale, uno squat centrale concentrando sempre sui taloni, ricordati sempre sui taloni e faccio uno solidamento della coscia da una parte e uno torsione con le spalle, continui così, se tu non riesci a fare alla stessa velocità che sto facendo io puoi ralentare, non c'è problema, nessuno dice che devi fare questo super veloce le prime volte e ricordate anche, recuperare va pure bene, in conseguenza se le prime volte non ti viene automatico di fare questo 50 sumo squat con me, tu recupera quando devi, puoi riprendere il ritmo continui, non abbiamo finito con i nostri 50, lo so che ti stai lavorando tantissimo, stai sudando però ti sto anche se garantendo risultati, allora di conseguenza con costanza, impegni, sorrisi e tanto lavoro vedrai che in questi 28 giorni otterrai risultati, risultati veri, quelli che volete che finalmente quando arriva la vostra prova costume e voi sarete sorrisi e adesso ti devi sorridere perché avete quasi scelto e dopo questo esercizio andremo su uno dei miei esercizi preferiti che si chiama allenamento, un calcio con affondo, allora qui se volete usare un appoggio come un divano una sedia, non ci sono problemi, ma ancora meglio farlo senza niente perché richiede più equilibrio ok? e anche lo slancio, le prime volte non deve essere così alto come lo sto facendo io, lo puoi anche fare più basso, ma continui perché noi dobbiamo fare circa 50 per gamba ok? qui mi sa che stiamo facendo 44, allora sono quasi quasi 50, allora 44 calci per gamba se devi recuperare, recuperi, poi appena che riesci a continuare con me, continui perché ci mancano adesso per la gamba, 22, continui, non esagerare con lo scalcio se non sei molto diciamo sciolto non devi esagerare, continui a calciare, ci mancano pochi perché quando abbiamo finito questa gamba andremo subito sull'altro, continui ancora, ci mancano questi 9, ancora 8, ancora 7, ci sei quasi dai ci sei quasi, tenete sempre l'acqua vicino perché poi se devi recuperare un po' di liquidi è sempre importante di farlo a piacere, nel senso quando senti che hai bisogno di bere, vedi e cominciamo con l'altra gamba sempre 44 qui, allora cambio la gamba, adesso dove sto concentrando il mio sforzo? mi sto concentrando su il talone, il lavoro va sul talone e c'è anche il fan che si mette in mezzo e che vuole stare con noi perché stai bagliando, perché lui sta facendo con noi le sue gambe, no a parte scherzi allora continuiamo a spingere in su e a lavorare sulla coscia, tira e scendo e tira e scendo e continui così perché ci stai facendo un allenamento, questi sono un po' più concentrati, meno esercizi ma più lunghi stiamo facendo più ripetizioni oggi, continui, concentrati, se devi fermarti e fermi per due o tre slanci miei puoi subito ributtarti nella mischia, che ogni giorno che farai questo allenamento ti porterà in avanti e sarai sempre più forte ci mancano pochi, ci mancano sempre i nove, dopodiché poi andremo a lavorare un'altra parte del mio corpo o del corpo di tutti quanti tra l'altro, ma è un esercizio che io adoro, che vediamo è quasi finito ragazzi ci mancano pochi, ancora uno e a terra, ecco jump squats, questi sono impegnativi allora puoi anche cominciare con meno di quello che vi ho messo in questo video perché effettivamente questo ti alza moltissimo il battito cardiaco se vedi c'ho sulla mano in questo esercizio ho messo anche i guanti pesati se li vuoi li trovi su Polsport, ci mancano 24 ricordati che questi sono molto impegnativi e di conseguenza non esagerate se dovete fermarvi, vi fermate l'importante è spingere dal tallone alla punta, tallone alla punta e riaffondare sul tallone perché questo è importantissimo per far sì che vai a stimolare la parte posteriore della coscia e il gluteo dai abbiamo quasi finito se puoi bere anche un po' di acqua non ti preoccupare perché adesso lì o lì o lì o lì o lì qua qua anche qui qui sotto o qua sopra cliccate, continuate, crescete, allenatevi con G alla prossima, ciao